La Nazionale di Pattinaggio Velocità Junior Senior Maschile Femminile si sta allenando in città per un raduno tecnico che serve a preparare gli atleti e gli atleti europei che si svolgeranno all'Aquila il 4, 5 e 6 settembre su pista, organizzati dal Centro Polisportivo Giovanile guidato dal presidente Mario Miconi. Della Nazionale Senior Femminile fa parte anche la pattinatrice del CPGA Federica Di Natale. Oltre a questo l'Aquila ospiterà di nuovo gli internazionali di pattinaggio i primi tre giorni di luglio. Una presenza importante che dà l'usso ad una città che vanta una lunga e significativa tradizione in questo sport e che ha sempre ospitato competizioni di alto livello. È una bella cosa, sì, sono arrivati ieri tutti quanti gli atleti della Nazionale Italiana di Pattinaggio, sia categoria junior che senior. Sono qui in ritiro nell'Hotel Canadian e si allenano qui nella pista di Santa Barbara per i prossimi campionati europei che si svolgeranno presumibilmente dal 4 all'11 settembre. La pista, considerato che è molto difficile, è stata prerogativa del commissario tecnico Massimo Massimiliano Presti di portare la Nazionale qui ad allenarsi e a testare la pista. Ci saranno anche gli internazionali a luglio in città come sempre. Parlando dell'impianto sportivo, finora diciamo che questa pista di pattinaggio è stata tenuta in buone condizioni grazie alla vostra esclusiva buona volontà. Però ci sono buone notizie perché il Comune ha annunciato un intervento importante che permetterà di dare ancora più lustro al pattinaggio che ha una tradizione fondamentale all'Aquila. Sì è vero, il sindaco Biondi in prima persona ci ha assicurato che verrà fatta la manutenzione, ma non una manutenzione straordinaria della pista, quindi una ristrutturazione completa della pista, anche perché è volontà dell'amministrazione di far diventare questa specialità il pattinaggio, il fiore all'occhiello della città dell'Aquila come lo è sempre stata. Noi ospiteremo a luglio gli internazionali d'Italia Open, compresa la Coppa del Mondo e se tutto va bene a settembre i campionati europei tra le città di L'Aquila, Sulmona e probabilmente anche Avezzano è ancora da definire questa ultima tappa. Se la maratona non si dovesse civolgere ad Avezzano torneremo all'Aquila. Speranza dell'amministrazione e nostra prima di tutto, quindi organizzazione centro polisportivo, è di poter fare un bel evento, realizzare un bel evento e portare un indotto alla città dell'Aquila notevole. La pista di pattinaggio che si trova all'interno del complesso sportivo di Santa Barbara, chiuso da anni ormai a causa dei noti problemi alla piscina, anche se il comune di recente ha filato la nuova gestione, finora è stata mantenuta viva grazie agli sforzi del CPGA e questo ha permesso alla città di non perdere gare e competizioni. Ora la buona notizia è che la pista sarà oggetto di un massiccio intervento di sistemazione grazie a fondi del PNRR.